Ma che sei pessimo veramente tu. Comunque grazie perché frisalle e vino bianco è la mia cena preferita. Poi l'olio è eccezionale. L'olio è nostro. Non è vero? No, lo facciamo noi questo, sì. Comunque non si applaude un tenore solo perché si schiarisce la voce. Come diceva Laclos, ho preparato una lasagna ma da paura. Cioè che se Nicola non si decide a dirmi dove è il vino rosso, non si riesce. Dove è il vino rosso? Dove è sempre stato? Lì in cantina? Sì, ammalano gli occhiali. E signorina, ti spiace? No, andate. Scusa Sara, io vorrei il vino. Torniamo subito, un attimo solo. Eccolo il tuino rosso, Nanni. Che ti prendi stasera? Lo so dov'è il vino. E allora? Hai bisogno di spazio di manovra per la maestrina. Faccio finta che non ti ho sentito. Sì, sì, sì. Almeno si chiama Sara e non Borchi89 come quelle che conosci tu sul computer. Ma di che parli? La stavo soltanto accompagnando di una visita. Falla finita, dai, ti prego, per cortesia. È giusta, è giusta. Non mi piace affatto, per questo è giusta. Nanni è una mia collega, per cortesia. Dai. Eccoci, scusa. Trovato? Sì, sì. 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 Grazie a tutti.